A sei anni dall'istituzione dei poli di innovazione, a due anni dall'insediamento del Presidente D'Alfonso, Regione Abruzzo segna un meno 9% in innovazione. Non lo diciamo noi, lo dicono i report di valutazione comparativa della Commissione Europea e siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia, pensiamo che persino Regione Molise cresce di un più 17%. Noi crediamo che questa sia una responsabilità politica di una mancanza di programmazione, una mancanza di rapporti con le imprese, di una mancanza di rapporti tra imprese, regione e università, centri di ricerca. A questo si può ovviare con degli studi specifici che non sono stati commissionati in Regione Abruzzo che potrebbero essere fatti sia internamente da Regione Abruzzo o affidandoli a delle società di consulenza per valutare come sono stati effettivamente utilizzati i fondi, quali risultati hanno portato, che cosa si è sbagliato e che cosa si può invece ripetere. Questo per far sì che i fondi europei non diventino come diventano troppo spesso assistenzialismo europeo, ma aiutino le imprese a crescere in maniera strutturale. Parliamo anche dell'utilizzo dei fondi 2007-2013, quindi è tutta la politica in generale che non ha programmato e non ha programmato nemmeno una verifica dei risultati.